Buonasera a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento serale con il webinar di Rete Informatica Lavoro. Sono Maria Lucevilla, brand manager di Performa Group, di cui Rete Informatica Lavoro fa parte. Con me c'è Fabio Carletti, consulente sulla sicurezza informatica e relatore di questa sessione. Tanti di voi lo conoscono già. Ciao Fabio e bentornato. Buonasera a tutti. Ciao. Grazie di essere qui. Vedo dalla chat che mi sentite e vedete correttamente, quindi non abbiamo problemi tecnici, speriamo di no. Come sempre in collaborazione con la nostra Academy organizziamo questi momenti formativi gratuiti su differenti tematiche tecniche ogni giovedì sera. Questa sera parleremo con Fabio di Kali Linux, un argomento che è già stato protagonista in uno dei suoi precedenti webinar, ma questa sera avrà un taglio nettamente più pratico da workshop. Quindi potrete, se volete, seguire ed eseguire passo a passo i comandi che farà Fabio. Dunque, Fabio, volevo chiederti, proprio qualche giorno fa è uscita la nuova release, giusto, di Kali Linux, la 2022.1. Riusciamo a vederla già oggi nelle tue prove? Sì. Perfetto. Ok, ottimo. Quindi magari se avete domande anche su le ultime novità di Kali Linux sicuramente riusciremo a fare anche questo. Diciamo che questa sera, visto che sarà molto pratico e magari i tempi di caricamento, giusto Fabio, saranno un po' più lunghi, magari tra un comando e l'altro, direi che la chat è sicuramente aperta a tutti tranquillamente. Le domande potete farle già da subito. Fabio cercherà nei tempi morti, tra virgolette, magari di dare un occhio alle domande e capire quali domande, rispondere alle domande più veloci tra un comando e l'altro. Quindi, Fabio, vuoi aggiungere qualcosa? Altrimenti partiamo subito. Io lascio la parola a te. Io, posso solo dire, insomma, che sono onorato che molte persone partecipano a questi webinar e workshop tenuti a me. Si vede che sono un tipo che sa spiegarsi e sa condividere la passione che ho in questo settore che è l'informatica, l'assicurazione informatica. Ok, perfetto. Dai, ti lascio la parola a te. Ci vediamo più tardi. Grazie. Va bene. Grazie. Signori, buonasera a tutti. Per chi ha seguito il webinar sul Kali Linux e sul Linux Essential, che più tardi erano dei webinar introduttivi per parlare di queste due tematiche, ovvero sul webinar Linux Essential. Si parlava più tardi del mondo Linux, dell'open source, di alcuni comandi basici da riga di comando e un po' come funziona il retroscena del kernel, del new Linux. Mentre sul webinar di Kali Linux, ecco, si parlava un po' di tool più o meno che si utilizza spesso per quanto riguarda il penetration test, scansione delle reti e delle vulnerabilità. Siccome che erano due webinar sostanzialmente teorici, perché non fare un workshop in cui si va a riassumere queste due webinar in qualcosa di pratico, che potete fare anche voi interattivamente con me. È stato richiesto come base per questo workshop che già avesse dovuto prepararvi, insomma, o una macchina virtuale o un computer con Linux dentro, quindi dopo scontato che almeno una distribuzione ce l'avete sotto mano, anche se non è la stessa, perché magari sono diverse distribuzioni, il ramo redat, l'RPM o ramo deb su come base Debian o Slackware o qualsiasi cosa, insomma, quello che andremo a vedere stasera sono cose universali che in cui qualsiasi, dipendente dalla vostra distribuzione live o distribuzione installata o su macchina virtuale, i comandi sono quelli, insomma, al massimo cambiare qualche cartella perché qualcosa viene linkato in un percorso diverso. Era stato anche consigliato tra l'invito di prendere Kali Linux perché sostanzialmente Kali Linux è una distribuzione che già ha dentro dei programmi per il penetration test, quindi evita di andare a fare apt-get, insomma, installare tutti i programmi a mano e eventuali database, insomma, quindi però non è che presiudica nulla, insomma. Io con l'occasione che è stato fatto anche il webinar su Kali Linux, ho preso l'occasione per l'ultima realenza che è uscita qualche giorno fa, la versione del 2022, che sostanzialmente rispetto alle precedenti non fa altro che, come tutte le distribuzioni che escono, sicuramente hanno il kernel in modo più aggiornato. Quindi kernel significa maggiore sicurezza, maggiore supporto hardware, firmware, specialmente per Kali Linux che proviene un po' dal mondo Debian, quando riguarda più caldo il discorso testing, quindi con un maggior supporto dei driver, famosa per le schede wifi, per l'escansione delle reti e via discorrendo. Sostanzialmente, più che oltre al kernel, hanno deciso di diversificare sostanzialmente le ISO che uno può scaricare dal sito. Poi dopo lo vedremo, il sito in cui quella che ho scaricato io, la macchina è Kali Linux da 2 giga abbondanti, altrimenti c'è un ISO proprio da 10 giga in cui si chiama, ecco la novità, è una ISO che pesa 10 giga di roba e viene chiamata everything, quindi Kali Linux everything, in cui c'è di tutto e di più e io devo evitare di installare e scaricare mezzo mondo, che tanto, insomma, il workshop è solo due ore, quindi non è che posso lanciare chissà quali cose, allora ho preferito prendere la macchina, cioè la ISO quella più piccola, installarla su una workstation, su VMware workstation, ma ecco potevo tranquillamente prendere anche qualsiasi net install e installare i software io. Io sono da un portatile in cui sono connesso tramite desktop remoto a una macchina virtuale in cui c'è dentro questo Kali Linux. Fabio scusami, posso disturbarti un attimo? Allora io ti ho presentato velocemente, però c'è qualcuno in chat che mi chiede se puoi presentarti in maniera un po' più approfondita, visto che comunque forse è il primo webinar che segue con te. Ah, sì, certo. Io ho dato per scontato che uno già avesse seguito il webinar, quello Linux Essential e su Kali Linux. Sostanzialmente io sono Fabio Carletti, il mio nickname dell'underground internet è Ryu, Ryu il personaggio di Street Fighter con la W. Io sostanzialmente mi occupo di sicurezza informatica e analisi forense, quindi sono un consulente di informatica in giro per aziende e studi legali, insomma, come per i tutti i parti. E sono delle marche, provincia macerata e prettamente ho a che fare con la piccola mia azienda che condorna un po' il tessuto della mia provincia. E ecco, sono un amante di Linux, fin dagli albori, quindi io mi ricordo il primo Lug, Linux User Group, che iniziava al tempo dell'università, quindi stavo parlando dei doni agli anni 2000, in cui cominciava a prendere sempre più piedi il kernel Linux e creare tra i nerd, tra i smanettoni, questi gruppi che inizialmente si chiamavano Lug, poi Aclab e si sono evoluti in diverse cose, in cui mi è appassionato moltissimo il discorso del Linux, specialmente per la sicurezza informatica. Quindi mi piace molto fare i firewall con Linux, distribuzione, addirittura ho fatto anche un workshop, no, un webinar, un workshop su IP Fire per l'Akimbo a maggio scorso e invece per Performa Group un webinar su IP Fire, che è una distribuzione di Linux. E ecco, dove posso, nella piccola mia azienda in cui il budget è un po' quello che è, cerco di sponsorizzare il più possibile, di sponsorizzare più cari, ecco, i software open source, Linux, ecco, dove non ci sono grandi sali server o grandi budget di esposizione, co-appliante, che fanno anche il caffè, sponsorizzare, insomma, queste soluzioni open source. E quindi, ecco, quello che, insomma, ecco, quindi sono un amante dell'open source, la sicurezza informatica, mi trovate anche su LinkedIn per chi volesse farmi qualche domanda. Comunque, stavo parlando del distro, della distro Cari, che è la versione nuova, insomma, hanno fatto questa ISO più leggera, da 2 giga a qualcosa, e la versione che si chiama Cari Linux Everything, che è un mattone a 10 giga di ISO da scaricare solo attraverso Torrent, in cui, ecco, ci sono di tutto di più, tutto il mondo installato. E sono delle novità per quanto riguarda i toll, essenzialmente c'è, sono dei toll che qualcosa vedremo anche stasera, tra cui DNSX, poi ci sono dei toll nuovi che, adesso, non vi sto a dilungare con i nomi, comunque, sicuramente sono tutti i toll che servono sia per le scansioni, sia per soluzioni proxy, quindi per nascondere il proprio indirizzo IP, e poi, ecco, la cosa importante è il kernel nuovo con le nuove funzionalità. E quindi così. Allora, iniziamo fin da subito dalla riga di comando, in cui è quello che abbiamo, quindi questa è la schermata, spero che lo vedete tutti, che sia abbastanza grande, quindi io sostanzialmente ho avviato la mia macchina virtuale su VMware, dopo vedremo anche sul sito, anzi, il sito forse potrebbe essere interessante vederlo fin da subito. Questo è il sito di Cari Linux, in cui sulla parte di download c'è la possibilità di scaricare le ISO, eccola qua, io ho scaricato questa qua, 64-bit, la 2GK8, altrimenti, ecco, c'è quella everything che vi parlavo che è torrent. È possibile già scaricare anche la macchina virtuale, sia per VMware e VirtualBox, VMware è una cosa commerciale, adesso mi è cambiato che avevo già un computer con VMware Workstation, quindi ho sfruttato questa cosa qua, scaricando l'ISO e installandola, altrimenti ecco, potevo già scaricare la macchina già fatta e io sono un burista, mi piacciono le cose, starle da me, metto la mia password e tutte le cose mie, invece di trovare la pappa bella a fronda. Però ecco, anche VirtualBox è una soluzione source della Sun Microsystem che ora è dell'Oracle e quindi chi non volesse pagare per avere VMware, cioè VirtualBox con molti piattaforma e che è gratuito, può essere installato anche su Linux e anche su BSD. Poi ci sono ecco altre immacini per le schede che le piccoline, chiamate piccoli computer, sono Raspberry Pi, in cui viene fatto con la IMG sulla microSD della memoria e poi fa l'installazione e sono computer per chi non riconosce che sono alimentati dalla porta USB, quindi proprio... e poi sono anche progetti carini che si possono fare e uno ha un computer diciamo con Linux che può utilizzare per le cose più disparate. PIN64 è un'altra piattaforma hardware open source e ecco, quindi questo è il sito di riferimento. Eccolo qua. Poi c'è anche se sono già cloud già preparate, c'è tutta la documentazione molto completa, poi insomma, lascio a voi il fatto di... poi anche le certificazioni, lascio a voi il divertimento di navigare sul sito. Allora, vediamo noi alla riga di comando. Fabio, scusami, puoi aumentare lo zoom? Come no. Grazie. E già un po' la qualità è... Basta? Ma, puoi fare anche un po' di più. Un po' di più. Ok, ok. Grazie. Dammi il feedback che te perché io non me lo rendo. Perfetto. Allora... Chiediamo se in chat vedono bene, cosa almeno... Vediamo se qualcuno risponde. Perfetto, ok. Grazie. Basta, non ti rispondo più. Allora, nella... Vabbè, non è un problema. Allora, nel webinar inerente Linux Essential si era iniziato con i comandi base. Quindi, perdonatemi per persone un po' più al di dentro, ma devo anche lanciare dei comandi basici per far capire anche chi è alle prime armi con il mondo Linux. Io, tra i comandi... Allora, questa è la Shell. La Shell, essenzialmente, è un interprete della riga di comando che mi permette di interagire con quello che sta sotto il cofono del sistema operativo. La Shell è in cui mi dice che il mio utente arriva, quindi sarebbe il mio account creato, e in cui posso interagire sia come utente, sia come amministratore. Se avete delle distribuzioni per diventare, per lanciare certi comandi come amministratore, bisogna lanciare il comando su, che significa che innalza i privilegi al root, quindi all'amministratore, a un utente con maggiori possibilità sia di operatività e anche di far casino, eventualmente. Oppure, ecco, chi, tipo, ha Ubuntu o tutte le derivate, c'è anche questo famoso comando che è Sudo, in cui ha preso anche questa versione di Kali, in cui permette di lanciare un comando come se fossimo, solo per quel comando, come se fossimo dei amministratori. Quindi, tra i comandi, sulla falsa riga del webinar che è stato detto Linux Essential, va a lanciare il comando per capire, per conoscere chi sono, che è il mio account. Quindi, con il comando who am I, chi sono io, mi va a rispondere o sostanzialmente il mio nickname, cioè che sarebbe l'account, l'utente creato quando ho installato. Questo qua lo potete lanciare anche voi, è multipiattaforma, quindi anche se avete Linux, qualsiasi distribuzione, insomma, c'è questo comando, è un comando standard. Il prossimo comando, che la riga di comando è, prima di tutto, con che utente sto digitando. Poi, sostanzialmente, la macchina. La macchina in cui sto operando, vado a lanciare il comando uname-a, in cui vado a chiedere alla riga di comando, che mi risponde, qual è la versione del kernel, la macchina e la questione, insomma, in cui sta girando questa distro. Io, in questo modo, dato che è l'ultima kali Linux, c'è il kernel nuovo 5.15, e quindi, ecco, kali Linux, la versione 64-bit, perché ho scaricato la ISO 64-bit, e poi, ecco, Debian, perché comunque sotto il motore c'è sempre Debian, e x86, 64, perché comunque, come dicevo, era 64-bit quello che ho scaricato io. Poi, quindi, io spero che voi state provando la riga di comando, e da voi uscirà fuori chi Debian, invece, kali Linux uscirà Debian, e chi avrà l'utente, Marco, avrà risposto qua con il nome del proprio utente che ha risposto, e poi vado a lanciare un comando che si chiama ls-cpu, in cui, sostanzialmente, mi va a dare tutte le informazioni che sono riguardanti l'hardware. Quindi, in questo caso qua, mi date le informazioni dell'architettura, in cui l'architettura 64-bit, perché ho scaricato la versione 64-bit, CPU, supporto tutti e due, sia il 32-64, in cui, ecco, cioè, io lo faccio su un portatile i7, io dicevo sempre relazione, quindi la, molto, molto recente, 16 giga di RAM, in cui, ecco, è stato dato due core per la macchina virtuale, e mi sembra che ho messo 8 giga di RAM per far funzionare il tutto. Quindi, voi avrete, ecco, un VMware, mi riconosce, comunque voi avete il vostro versione 32 o 64-bit in base a cosa avete scaricato, e qui avete il vostro, la vostra CPU, quello che vi riconosce in base alla vostra macchina in cui state operando. Una volta, comunque, insomma, preso mano con l'hardware, chi siamo, che non siamo, si va a vedere anche i processi in esecuzione. Per chi viene dal mondo Windows, conoscerà molto bene il Task Manager di Windows, in cui ci sono tutti i processi con tanto di utilizzo della RAM e utilizzo della CPU. In Linux, comunque, o per meglio dire in Unix, perché è un qualcosa che lo troviamo anche sui Mac, c'è un comando che si chiama TOP. TOP non è altro che una riga di comando, come se fosse un Task Manager di Windows, in cui c'è la CPU, in cui viene indicato l'utilizzo della CPU, l'utilizzo della RAM rispetto alla RAM disponibile, quindi quella Libra, quella non Libra, e la Swap. La Swap, per chi aveva seguito il webinar su Linux Essential, avevo già spiegato che è un posto provvisorio in cui Linux può andare a appoggiare dei file temporanei perché non sono molto utilizzati, oppure quando viene saturata la memoria RAM viene utilizzato quella parte che si chiama la memoria Swap. Ora, dato che i nuovi portati, i nuovi computer hanno abbondantemente RAM, si cerca sempre di preferire l'utilizzo su RAM rispetto a questa qua, ma inizialmente la regola era che in base alla RAM il doppio si doveva fare la Swap, però ecco, sono quelle impostazioni che poi uno lo fa mentre installa il sistema operativo, tanto c'è un procedure passo passo che di solito è la distro che pensa già all'utilizzo della Swap, la calcola in base alla grandezza dell'hard disk. Quindi, una volta top, potete prendere visione anche del PID, i PID sono tutti i numeri dei processi in cui, e quindi fai, si può andare a identificare i processi perché ogni processo, ogni programma viene dato un numero diverso. A me mi piace molto utilizzare un altro programma per vedere se il computer è idoneo a quello che sta facendo, che è Htop. Htop, sostanzialmente, è una sorta di top, solo un po' più colorato, un po' più intuitivo. Per chi, allora questo qua, Htop non è un programma predefinito che lo trovate dappertutto, quindi bisogna installarlo con, se siete su Debian o comunque su Ubuntu, apt-get install Htop o comunque su il vostro repository, se siete se siete Ramo Centos o Red Hat. Ecco, quindi è una cosa un po' più intuitiva, io lo preferisco perché comunque, ecco, c'è l'utilizzo della... ci sono i colori, insomma, ecco, quindi è un po' più visibile rispetto a Htop che è in bianco e nero. Spero che state provando e... poi, comunque, parlavo di PID. I PID, quindi, sono tutti i numeri che identificano il processo in esecuzione, che sono il numero crescente e in cui possiamo vederli anche senza passare per Htop con PS-AE. PS, allora, perché non me lo trovo? Non me lo trovo, non me lo trovo. Allora, un attimo che sto con il desktop remoto. Allora, ecco, non mi prendeva per scrivere in mouse. Ecco, allora, PS sono gli ultimi... sono i procedure che ho lanciato, quindi la ZSH, che è la shell che sto utilizzando al momento, e... ah, non avevo detto che è stata inserita la ZSH, mentre, principalmente, su Linux c'è la bash. Spero che state provando questi comandi, poi, comunque, per qualsiasi cosa sappiate sempre che c'è sempre la MAN, MAN, che è la pagina manuale, quindi MAN TS, in questo caso, in cui c'è la possibilità di vedere le combinazioni di MAN che posso lanciare, AUX e AUX e via discorrendo. Quindi, ogni comando, ogni programma che è stato su Linux, ci dovrebbe essere, o almeno, la pagina MAN, che va a identificare, che va a chiamare il manuale per quel programma specifico. Spero che state provando queste cose. Fabio, scusami, ti leggo un po' qualche domanda nel frattempo. Cosa significa il PID 1? Qua i PID sono in via crescente, in cui si inizia da quando si avvia il computer Linux, viene assegnato un PID, mano a mano che si avvia i programmi, ecco. Quindi, è un identificativo che è crescente. Ok, grazie. E quindi, ecco, c'è tutto il discorso del... Ci sono altre domande? Sì, ce ne sono un po'. Quindi, se hai voglia comunque di dare un occhio anche alla chat... Beh, se magari qualcuno si sta provando... Se qualcuno si sta provando, se vogliamo... Come vuoi, insomma. Mi vuoi leggere te o faccio io? Guarda tu. Allora... Guardo io. Guardo io. Domande. Domande. Allora... Devo partire dal più basso. Come si fa a vedere che versione di sistema è installata? Allora, questo qua la trovi... Allora, Antonio, io inizialmente il primo comando, che forse ti riferisce a quello lì, che ho lanciato è Uname, che è un programma che parte, se puoi vedere, anche sulla pagina Man, Man, Uname, in cui ci sono diverse opzioni. Ecco, se ti interessa per la versione del kernel, almeno S, Uname, Machine, Processore... Tutto questo smattimento da riga di comando, sostanzialmente, è che tutto ciò che possiamo fare da interfaccia grafica, lo possiamo fare anche da riga di comando, perché l'interfaccia grafica non è come su Windows in cui è strettamente necessaria per utilizzare il sistema operativo. Quindi, tutto... Ecco, noi si farà da riga di comando perché di solito il nerd o smanettone, o comunque il quello un po' più addentro del mondo Unix, deve sapere utilizzare, insomma, la riga di comando, è un bel punto di riferimento. Quindi, poi, comunque, se avete già lanciato un programma, basta che fate, con il tastierino della tastiera, la freccetta su, che va a richiamare i comandi lanciati in precedenza. Quindi, in precedenza, ho lanciato Uname, trattino A, in cui mi va a dare la versione di Kali Linux da 2022, il kernel e via discorrendo. Allora, siccome sulla pagina Man, adesso vediamo, Uname, Uname, ecco, ci sono altre informazioni, quindi proviamo cosa esce fuori con Uname, meno R, quindi Uname, in posto di A, mettiamo R, e mi va direttamente la versione 64 bit con il kernel. Mangiamo, meno M, 64 bit, mi va la risposta di 64 bit, perché meno M era quello che si andava a interrogare per la macchina, machine, print machine hardware name, ecco, meno M. Quindi, queste sono tutte cose che voi provete a provare, e il bello del workshop è il fatto che è interattivo e si può provare così, non è una cosa statica, slide, da girare così. Leggo qualche altra domanda, Maria? Sì, dai, volentieri, perché stanno arrivando. Allora, c'è una domanda di Sergio che sta usando Ubuntu su VirtualBox. Allora, vorrei fare due domande, sono un developer. Eh, questo magari dopo, è un po' più lunga, magari in alto trovi domande perché stanno facendo proprio pratica. Ah, ok, ok, ok. Non riesco, allora, Antonio Marsili, non riesco a installare, htop mi dice file not found. Allora, se sei da, guarda, se sei da Debian o da Kali Linux, basta che fai sudo, apt-get, install, htop, lancio anche io, ti chiederà la password dell'amministratore e mi dice che sostanzialmente il pacchetto già c'è perché già è installato, quindi htop è già alla versione più recente, quindi non la va a installare. Nel tuo caso, quando lancerai su apt-get install htop, sostanzialmente ti dirà, l'ho trovato, c'è nei miei repository, son per confermare o per annullare il comando che tu fai e poi alla fine, una volta che hai fatto, lanci htop e verrà caricato. Oppure prendete la vostra distribuzione, sicuramente ha un packet manager, quindi avrà un sistema per installare i pacchetti con interfaccia grafica, quindi ricordate, quello che potete fare da interfaccia grafica lo potete fare anche a riaccomando, quindi tutto sta a ricordarsi. Se Antonio sei su circuito Debian, avrai il famoso apt-get, in cui io vado a... puoi lanciare apt-get htop senza il sudo, vediamo cosa mi dice, mi dice guarda, è impossibile installare perché devi essere amministratore, quindi ricordatevi che se siete su Debian dovete lanciare il comando su e loggarvi come amministratore. Se siete invece su Ubuntu o simili, derivate, tipo Linux Mint, eccetera eccetera, dovete mettere davanti su apt-get install htop. sostanzialmente io sto andando per scontato che già avete fatto anche i programmi primi, cioè i passaggi prima di apt-get, perché sostanzialmente, come sapete, da Linux Essential c'è sempre aggiornare i repository, quindi apt-get update, in cui va ad aggiornare tutti i pacchetti possibili, immaginabili, installabili da i propri repository. Una volta fatto questo qua, allora si può andare a installare il pacchetto, quindi non so Antonio che problema c'hai, ma io spero che apt-get update, upgrade, questo proprio è l'abc, insomma, spero che l'hai fatto. Quindi ogni tanto si va ad aggiornare questi, io sto lanciando queste cose da rigare comando, ma i programmi con interfaccia grafica li fanno già in automatico dietro le quinte, quindi una volta fatto l'update, vado a lanciare l'upgrade, che sostanzialmente mi va a vedere tutti i programmi che già ho installato sulla mia distribuzione e va a vedere se ci sono degli aggiornamenti, delle librerie o qualcosa da aggiornare per quanto riguarda quei programmi. Quindi ci sono dei sfondi del desktop, qualcosa, insomma, da poter installare, metto S, sì, confermo e mi fanno gli aggiornamenti in automatico. Quindi apt-get update e poi apt-get upgrade. Poi c'è anche apt-get dist upgrade per fare proprio gli avanzamenti sia di kernel sia di altre cose. Ecco, tutte queste cose comunque richiede banda e tempo perché devono scaricare, devono aggiornare e via discorrendo. Mentre fa questa cosa qua, che poi lo vediamo, apre un'altra scheda e andiamo avanti. Allora, mentre ingrandisco, allora quindi quello che abbiamo visto è che da riga di comando ci sono questi semplici comandi che ci permettono di interagire con la shell. Poi, tra i comandi che avevo citato sul webinar c'era anche il discorso della pvd, vediamo cosa fa questo comando, pvd che è quindi working directory in cui mi dice la directory in cui mi trovo, in cui mi trovo, in cui eventualmente posso andare a vedere il contenuto, le cartelle con ls, che è un po' come se fosse il dir del dos per chi si ricorda il prompt, in cui ho delle cartelle della home. poi ho un, per ritornare indietro sulla cartella originale, perché qui sono nella cartella, di punto a punto in cui mi va a dare, mi fa a risalire come directory sul punto a punto che sta per dire mi risali di un iNode rispetto alla cartella. quindi io stavo sulla cartella rive, c'è la cartella a monde che è home e quindi addirittura posso ancora risalire sulla root in cui sono nella cartella madre, cioè proprio quando si fa l'installazione in cui si dice mettimi tutti i file del suo stesso hard disk, essenzialmente ecco. Quindi questo è come se fosse un po' il ciddo punti per chi è di Linux e un po' la cartella maggiore anche dall'indietro del Mac. quindi sono queste qua le cartelle che poi contengono i vari programmi, i vari eseguibili, i binari e i vari cartelli dell'utente. Nella cartella home di solito si mette la cartella degli utenti, creo la cartella dell'utente Marco, adesso faccio un esempio, dentro la home avrò anche la home Marco in cui avrà la sua musica, i scaricati, immagini e via discorrendo. Allora ecco qua, qua ha finito, allora io spero che Antonio sia riuscito e ecco una volta fatta update update e poi una volta che hai aggiornato tutto il sistema lanci i petichetti install che è una parola, è un comando base in cui si va a dire quello che voglio tallare, vlc, mplayer, kvirk, torrent, qualsiasi cosa, ma ripeto stiamo facendo un po' questa cosa da riaccomando per capire, ma c'è sempre un gestore di pacchetti con interfaccia grafica in cui c'è proprio la lente che puoi cercare per installare e quindi puoi direttamente andare sul, sul, a trovare i file che manca. Adesso, ah ecco, xpdf per esempio è un programma semplice per aprire il pdf, ti faccio vedere in cui eccomi, vado a confermare, mi c'è lo spazio che occuperà su un hard disk e lo va a installare. Ci sono già dei mirror in cui sono agganciati per quando riguarda la mia versione, la mia distribuzione e va a lanciare questo programma. Poi se vuoi, Antonio, puoi provare anche, siccome che da riaccomando c'è anche lo screensaver, io già ho installato cmatrix, se vuoi provare, cmatrix non è altro che lo screensaver da riga di comando, non sono falsa riga di matrix in cui c'è quella schermata famosa che degli operatori che vedevano cosa succedeva nel mondo reale e anche questo qua, ecco sudo apt-get install cmatrix, addirittura cmatrix c'è la possibilità anche man cmatrix di utilizzare diversi colori e font. Eccolo qua. Allora, andiamo avanti con i nostri comandi comunque da riga di comando. Quindi stiamo parlando di pwd che sta per print work directory per capire qual è la cartella in cui sono e c'è il comando qmi, con che utente sto, ho sbagliato, ho sbagliato, ho invertito, mi, ecco, con che utente sto dialogando su questo terminale. c'è top per il, come se fosse il task manager, io lo spiego sempre come il task manager di guindos perché ormai è straconossuto e poi ecco c'è stato il dps per discorso dei processi. quindi lls è per la lista, quindi il dir, per farmi vedere quello che c'è dentro e poi c'è un altro programmino che si chiama free h in cui mi dice direttamente la memoria livra e la svap utilizzata costantemente non è altro che una sporporazione di quello che tirava fuori il top. Quindi la memoria utilizzata e la memoria così. per entrare le cartelle come nel dos c'è cd, change directory in cui ecco io sono su, sono sul, la cartella questa home, vado a fare i cd scaricati, dentro la cartella scaricati, scaricati ls non c'è niente perché stanno andando a distro così e quindi per tornare indietro cd punto punto, ritorno alla cartella iniziale. spero che state provando. Ci sono qualche domande su questa parte iniziale? Perché comunque ecco, allora, poi, allora, andiamo avanti. Sì, allora, io prima stavamo sulla cartella dell'utente, voglio ancora tornare indietro, ls, ecco questa è la cartella root, identificata con la barra, quella che sta sopra al 7, e in cui ci sono tutte le cartelle, quindi è un po' come se state sul vostro disco con Windows, trovate programmi, programmi, file, Windows, no, eccetera, quindi è la cartella radice. In questa cartella, di solito vengono identificati, di solito i programmi si trovano in queste posizioni, in svin, che contiene i binari essenziali per l'amministratore del sistema, come, che so, parted, per partizionare, o IP. Ah, a proposito di IP, allora, per vedere invece il indirizzo IP, c'è un comando simile a Windows, si chiama, si chiama ifconfig, in cui è il fratello di, basta ricordarsi, ifconfig del DOS, ifconfig per Linux. Sicuramente con questo comando si va a vedere, ecco, l'indirizzo IP che ha preso la macchina virtuale, i 192.108.2.105, la netmask, in cui va a dire che comunque si va, è il quarto numero, l'indirizzo IP, il v41234, che va a aumentare il broadcast. Questi qua sono gli indirizzi IP in cui è la tua macchina virtuale, quindi sarà questa che, per esempio, io sto dialogando tra i miei desktop e i remoto con la mia macchina virtuale, su desktop e i remoto dovuto mettere, diciamo, l'indirizzo, questo qui. Quindi, adesso, abberta la parrenza e chiusa la parrenza perché mi viene il discorso di indirizzi IP. Allora, per quanto... Fabio, se vuoi, se vuoi c'è una domanda di Roberto, nella chat. Allora, che differenza c'è tra soft link e hard link? Allora, io queste cose non le volevo far vedere oggi. No, 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 di Roberto, scusami, è nella chat, non è nella sezione domande. Ah, scusate, scusate, scusate. Figurati. Allora, qual è? Roberto, è in fondo, è una delle ultime. In basso, come si configura la rete da riga di comando IP, net, mask? Allora, io sono contento che mi fate queste domande, però io volevo anche attenermi a lanciare i comandi che avevo spiegato su Linux Essential, perché dopo si diventa troppo sistemistico. Allora, da riga di comando, c'è stato il comando ifcoving, ma c'è stato anche per la nuova versione ipadr, in cui mi va a dare sia tutti gli indirizzi IP e via discorrendo. Per ogni comando, soprattutto, se vuoi andare a modificare l'indirizzi IP, c'è sempre la possibilità di modificare la connessione. Allora, qui adesso, io volevo, allora, io volevo fare che tra... Allora, da riga di comando, scusami. Ah, 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 eh, c'è... Allora, da riga di comando c'è direttamente... Allora, se tu utilizzi ifconvig, che ho lanciato prima, c'è anche possibilità di fare man ififconvig, in cui ti va a dare direttamente i comandi e sintassi da lanciare per modificare l'interfaccia e l'indirizzi IP. Quindi, eh, ti rimando, eh, eh, ti rimando alla pagina man, ecco, quindi si va addirittura, eh, c'è anche la possibilità di cambiare il MAC address della scheda di rete, ma questo per discorso di, de, de, quando riguarda, eh, c'è proprio un programma che si chiama Messenger per cambiare anche il diritto, l'indirizzo MAC address. Eccolo qua. Quindi vai a lanciare il down, eh, vai a disattivare e la vai a riattivare con l'indirizzo IP che ti interessa a te. E magari configurare in base alla tua rete. Io ho questo indirizzo, c'è un 92, c'è un 68.2, perché il mio gateway è 2.1, quindi è un classico router, eh, ASUS che va a fare queste cose qua. Allora, eh, prima di, eh, allora io volevo, eh, allora stavo spiegando il discorso delle cartelle che mi interessava molto, eh, quindi LS, eh, eh, ecco qua, le cartelle. Allora, io volevo spiegare un attimo queste cartelle, perché sennò le persone non sa di che cosa stiamo parlando di queste cartelle che abbiamo lanciato prima sul LS. Allora, stavo parlando dello SBIN. SBIN, quindi, contiene i binari essenziali per l'amministrazione del sistema, eh, in cui ci sono i binari che io posso andare a lanciare da riga di comando. Ecco, mi interessava questo. Eh, poi il BIN, eh, la cartella BIN, in cui ci sono, eh, contiene i binari essenziali per tutti gli utenti, come, eh, non so, eh, MKDIR, che è un programma per lanciare, per creare una cartella. MW, che sta per spostare, o LS, che è quello che ho lanciato prima, che mi permette di fare LS list, in cui su, su, su DOS, per chi si ricorda del prompt, c'è il comando di R. C'è un'altra cartella che si chiama USERSBIN, che memorizza i binari per l'amministrazione del sistema, come, non so, eh, GROUP, GROUP ADS o, 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 del USER. Eh, poi c'è anche USERSBIN, USERSBIN, che include la maggior parte degli eseguibili, come, non so, eh, ah, come, per esempio, adesso, ovviamente, eh, PS3. Guarda, PS3, in cui, ecco, l'output che lo che mi dà, adesso cerco di ingrandirlo, che mi dà proprio tutte le cartelle come sono, eh, quindi va a dare il comando PS, che già abbiamo visto per quanto riguarda i processi, però, eh, col TRI, albero, quindi è un comando che potete provare anche voi, PS3, eh, quello che ho lanciato, o come MAN, o come SUDO, insomma, quindi sono tutti i binari che può lanciare qualsiasi utente. Eh, quindi possono già tutti, tutti gli utenti. Poi c'è anche un USERSBIN, che viene utilizzato per mobilitare i programmi installati localmente per l'amministrazione del sistema, che non sono gestiti dal gestore dei pacchetti di sistema. Eh, poi c'è, potete trovare, no, perché in base a delle listro, magari, delle cartelle ci sono, altre, sono linkate altrove. Poi, eh, poi ha lo stesso scopo, eh, user local bin, eh, ha lo stesso scopo di user local sbin, eh, ma per i programmi utenti. Quindi la parola, cioè, la parola stessa lo dice bin binari e sbin, eh, poi quando riguarda cose, appunto, di vista amministratore. E poi, eh, di vista di distribuzione, ultimamente, sostituiscono il bin con lo sbin, eh, o come dicevo prima, con collegamenti simbolici a, tipo, una cartella tipo USERSBIN o USERSBIN. In ETC, invece, quindi, ritorniamo alla visione di prima, ETC, la cartella, questa qua, secondaria, ETC, eh, ci sono, eh, diversi modelli, eh, di configurazione. Allora, file, configurazione, eh, può essere, ci sono, tipo, ah, hostname, adesso, mi vengono il nome, hostname, è il nome della mia macchina che ho dato per la mia, la mia rete. E qui, questo è un file che posso andare a editare per cambiare il nome al, al mio computer, alla mia macchina virtuale, insomma, al mio dispositivo. Eh, io l'ho chiamato così, Calilinux 2022, eh, ho la presione automatica, se non ricordo, ecco, ho fatto l'installazione qualche giorno fa. E poi, ecco, c'è anche il discorso del, del shadow, della password, in cui, c'è, a parte posso anche entrare, così vi faccio vedere. cd, cd, etc, faccio ls, e vado a vedere un sacco di cosine carine, tipo shadow, eh, in cui, eh, un file che è trattato per le password degli utenti, profile, in cui sono i file di configurazione per, 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 per la scella dell'utente, c'è anche, eh, 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 group, eh, c'è anche, eh, il file, eh, host, per le lingue di indirizzi IP, relative traduzioni, nomi host. E, eh, e poi, ecco, prima, adesso, perché qui non, se c'è, non c'è la bash, ma, eh, c'era, anche il, la possibilità di modificare la bash, in cui, insomma, io mettevo, ogni volta che, eh, eh, lanciavo, adesso, per esempio, che l'hanno tolto, adesso lo vediamo subito, se l'hanno tolto, cal, che è il calendario, adesso lo ho ristallato, eh, in cui editavo la, il file di configurazione, e PC, eh, bash, eh, in cui, ogni volta che andavo ad aprire una, una shell, mi lanciava questo cal, e mi faceva anche un name, trattino A, sostanzialmente mi, mi dava il calendario con il giorno, e la versione, oppure, eh, per chi, eh, si ricorda i film di Kevin Mitnick, Take Down, eh, c'era, abbiamo, eh, Kevin Mitnick è un famoso hacker, eh, eh, americano, in cui, aveva bucato, eh, dei server potentissimi, eh, eh, dell'università, in cui, quando si logava alla riga di comando, diceva, padrone, sono al tuo servizio, eh, queste sono tutte personalizzazioni della shell, in cui, eh, vanno a rispondere queste cose qua. Poi, c'è un altro file che è importante, che è quello di resolve.conf, che è sempre per DNS, adesso li torniamo sempre a LS, e, e quindi, se sono, fa, allora, una cosa che non ho detto, è che da riga di comando c'è un editor che si chiama Pico, o Wai, eh, Pico è molto più leggero, Wai è molto più complicato, ma io per, per, eh, per chi ha le prime armi, consiglio questo qua, eh, no? Esco, e se dovete modificare qualcosa di importante, ovviamente non potete lanciare solo Pico, ma dovete sempre lanciarlo o come amministratore, oppure con, eh, il, il comando iniziale, eh, sudo, perché, eh, se sono cose di, di sistema, hanno bisogno della password, l'autorizzazione. E, quindi, ecco, queste qua sono un po' i, i contatti, le cose importanti per la parte iniziale. Poi, eh, posso, ah, io scusami, posso chiederti, allora, ci chiedono magari di, eh, andare più nel dettaglio per quanto riguarda Kali Linux, magari come trovare un PC vulnerabile, come conoscere l'IP, cioè, andare magari in, eh. Questo, questo, questo fa parte della seconda parte, perché siccome che il workshop riprende da Linux Essential, nella prima parte, devo per forza dire quello che stavano già su Linux Essential. Poi nella seconda parte. Purtroppo il tempo vola. Ah, eh, ok, ok, ok. Ottimo, grazie. Però ho, ho finito, ho finito i comandi, ma era perché era giusto per chi ha le prime armi che non posso abbandonare, insomma, devono sapere queste cose importanti. Grazie mille. Eh, poi, eh, una volta fatto questo qua, eh, allora, dato che siamo in Kali Linux, ma potevamo essere da qualsiasi altra distribuzione, eh, installate, eh, l'altra volta abbiamo utilizzato il programma, eh, si era parlato il programma di Nmap. Nmap, sostanzialmente, è un programma che va a scansionare, e ora qua, eh, io posso andare, eh, tranquillamente al canzionare con Nmap, il mio, eh, gateway, eh, il mio indirizzo, eh, il mio router, che mi ha dato la connessione di HCP, in cui vado a lanciare come amministratore, quindi su, se siete su Ubuntu o, eh, Debian, o, eh, se, se vi serve l'account root, fate sempre su, mettete la vostra password e poi di, eh, potete digitare. Nmap. Nmap è un port scanner famosissimo, potentissimo, in cui, anche per Nmap c'è la pagina MAN, e, eh, io, in questo, eh, in questo esempio, vado a lanciare con il suo fisso, trattino, S, S grande, che sta per scan, S piccolo, sono diversi tipi di scansione, eh, scene, scan, S grande, trattino, che sta, off-thinging, in cui mi permette di andare a vedere, cioè, cerca di rilevarmi il, eh, il sistema operativo che è in circolazione, eh, su, nella mia rete, o in questo caso qua, nel quel dispositivo. Mentre fa la scansione, eh, io apro un'altra shell, ingrandisco anche qua, e vi faccio vedere, eh, la potenza di, eh, Nmap, c'è la pagina Nmap in cui si può lanciare una, di diverse possibilità, eh, di scansione. Eh, esempio, io avrei voluto lanciare, eh, per quanto riguarda il, il mio, la mia rete, eh, Nmap, eh, cent, eh, cento, centovantadue, centovantadue, cento dotto, punto due, punto zero, barra ventiquattro, come l'esempio qua, che potete vedere su, eh, eh, questo esempio che fanno, ventiquattro sta a dire che mi scansiona PC per PC, se esiste o non esiste, in tutte, eh, tutta la mia rete. Quindi, sostanzialmente, Nmap, io penso che è un bel punto di riferimento iniziale per qualsiasi rete, cioè, io, lo porto, è molti piattaforma, e è un bel punto di riferimento, perché, eh, una prima cosa, è quella che, quando non si accangia la rete, i computer attivi, eventualmente, porti e servizi che sono, eh, in ascolto. Con il barra ventiquattro andiamo a interrogare, eh, indirizzo IP per indirizzo IP della rete, in cui, se poi risponde qualcuno, se c'è qualcosa, eh, lo riporterà nella scansione con, eh, con la porta e, eventualmente, anche il servizio che è in esecuzione. Ci sono diversi tipi di scansione, più o meno invasivi, e poi, in base, ecco, se stiamo scansionando nella nostra rete LAN, siamo noi, o se stiamo scansionando qualcosa che ci potrebbe essere un vario, qualche sistema di intrusione, che potrebbe andare a bloccare certe tipologie di scansioni, perché, ehm, la scansione non è illegale di per sé, però, eh, ecco, è un preludio a qualcosa di, 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 di non buono, e quindi viene vista sempre come una cosa un po' borderline, e quindi, in base a certi IDS, certi IPS, eh, potrebbero bloccarti, o metti in blacklist l'indirizzo IP per alcuni secondi. Altre scansioni, ecco, quindi, eh, la S, trattino S, è quella che sono andato ad utilizzare io, ma, ecco, potevo utilizzare anche altre tipo di scansioni, vi rimando a, eh, la pagina MAN, in cui ci sono un sacco, anche la possibilità di, eh, decidere anche la porta precisa a scala di scenario, quindi, posso anche dire, eh, NMAP, ecco, nel mio caso, guarda, direttore posso, posso anche annullarlo, e dirgli, eh, NMAP, invece di O, eh, metto la porta, 80, e sono sicuro, eh, quindi ho a dire, ah, NMAP, mi fai una scansione, un SIN scan, un, un impacchetto col SIN, alla porta 80 del, del, del router, e ecco, mi risponde subito, perché sono, eh, porto tanto dove sta il pannello amministrazione del router, quindi mi va a dare la scheda di rete, e ASUS Tech, il computer, che è un, un router recente del, del gatto ASUS, eh, se invece non, come prima, non davo il suffisso, trattino P, mi scansionavo tutte le porte, un computer, ASUS, 5500, 3500 porte, e quindi va a scansionare porta per porta, e dire, tu sei aperta, tu sei chiusa, tu sei aperta, tu sei chiusa, e in base a, in base a quello che riporta, mi va a dare, adesso vediamo, io perché cerco sempre di, eh, cercare scansioni veloci, per, eh, non devi dare, di portarla un po' troppo lunga, adesso faccio su NMAP, e lancio direttamente, ho, eh, quel comando che cerca di capire, quindi il sistema operativo, o comunque mia, una versione kernel, approssimata di, eh, il dispositivo che sta in, voi comunque lo provate, lo potete provare tranquillamente dalla vostra, eh, rete LAN, e quindi potete scansionare indirizzi IP del vostro gateway, eh, oppure potete, potete scansionare anche qualche PC, o, o il vostro cellulare, insomma, qualsiasi altro dispositivo che sta connesso alla vostra Wi-Fi, o attraverso la vostra Ethernet. Poi ci sono altri tipi di scansioni, con, eh, trattino A, molto utilizzato, in cui da, eh, se c'è la porta a 80, e mira anche, evidentemente anche la versione di cosa sta girando. Come dicevo prima, ma, eh, Maria Luce, vedi, quando lanci le scansioni, eh, occorre anche il tempo, insomma, per farlo. Certo. E, ok, se c'è qualche domanda, nel frattempo, che, allora, almeno posso rispondere, per chi adesso sta a casa, potete lanciare uno di questi comandi qua. E quindi, c'è, ah, c'è anche l'opportunità di lanciare degli script, gli script sono dei programmi aggiunti, delle funzionalità aggiuntive, più che altro, a Nmap, in cui va a scansionare una cosa ancora più dettagliata. Ma io non voglio andare troppo nel merito. Comunque, ecco, questo trattino A è per rilevare il, l'OS. Quindi, sostanzialmente, per chi chiedeva, per la scansione delle reti, io, non mi ricordo il nome, ma sostanzialmente, quello che vado a fare, è quello di andare a lanciare, in base all'interessi IP che mi danno, vado a lanciare, su, su Nmap, su Nmap, ecco, la mia rete, è 2. qualcosa, barra 24, e quindi, ecco, aspetta, 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 in questo caso, per esempio, sta facendo vedere che sta scansionando questi indirizzi IP, dallo zero, quindi va a iniziare in modo crescente, tutti indirizzi IP, e dice, host down, perché non ci sta a nessuno che ha quell'indirizzo IP, o comunque non è stato assegnato, o il computer spendo, insomma, in qualche modo, e poi, ecco, ha trovato un indirizzo IP che c'è il 83, il 83 è il computer in cui c'è la macchina virtuale, in cui si vede benissimo che è Windows, perché rileva le porte classiche di Windows, la c'è la 35, e quelle, un attimo che la vado a ritrovare, allora, ho il mouse che, è un po', allora, eccolo qua, c'è la 35, 445, c'è la 39, sono le classiche di Windows, in cui c'è condiviso NetBIOS, e quindi Samba, e poi, ecco, la .90, e poi, ecco, cerca di darmi anche la possibilità di dirmi il computer, la marca, che cos'è, AsusTech, oppure, mi da cerca di, se un NAS, riconosce Synology, o QNAP, e qua, per esempio, essendo come Windows, mi da, cerca di darmi, delle versioni, con la percentuale, di quello che dovrebbe essere, il sistema operativo che sta girando, quindi, ecco qua, e poi va avanti, MB, mi riconosce il Mac, mi riconosce che non c'è nulla, è condiviso, quindi tutto è chiuso, in the corporate, c'è, ecco, il computer, quello lì, con, con le porte aperte, e il servizio che sta in ascolto, quindi, il servizio che sta in ascolto, con la porta, sono lì, i bundi, in cui poi si va, eventualmente, a lanciare, esplorare, o trovare vulnerabilità, ecco, per esempio, in questo, in questo caso, mi da, anche la versione del kernel, in cui, è la macchina virtuale, con Kali Linux, in cui mi dice che c'è la porta, la porta aperta, di, di stop remoto, e, eccola qui, la 3389, e quindi, ecco, il kernel che sta in esecuzione, queste versioni, queste cose che dicono, non è che sto spaccando, da te al pelo, sono tutte le cose, che ti servono, perché comunque il tool, è sempre un qualcosa, che ti aiuta per, non è, lancio il tool, il tool, e so posto, so sicuro, ho fatto la mia, il mio pen test, insomma, da ricordare sempre, che sono strumenti, che aiutano a, non sono, quindi, poi, altre, c'erano altre domande, che, no, comunque, volevano sempre, vedere, magari, qualche attività, sempre per il pen test, o, sì, allora, tutto inizia con, io, questo qua, con Nmap, che è un buon punto di riferimento, per quanto riguarda, ehm, il, il pen test, delle porte, vulnerabilità, poi, ehm, vado a, ehm, poi c'è un, l'altra volta, sul webinar, è stato parlato anche, di OpenBus, OpenBus, è un qualcosa, che si installa, e, ehm, contanto, di database, username e password, che ho installato, anche qua, su questa macchina, da, ehm, da preparare, per voi, e, eccolo qua, ehm, c'era il link, prima, eccolo qua, 93, 92, questo è, un, un activity assessment, ehm, come se fosse Nessus, si chiama OpenBus, questo è open source, ehm, una volta installato, ti hanno l'username e password, in questo, mh, in questo programma, è possibile, ehm, creare task, e scansionare, ehm, vari dispositivi, quindi, sostanzialmente, va a riportare tutte le vulnerabilità, che sono, quindi, sostanzialmente, cosa potete fare voi, anche per chi ha le prime armi, una volta che ho lanciato Nmap, e ho scansionato tutta la rete, ho trovato l'indirizzo IP, con, ehm, con anche le porte aperte, una volta che ho, trovato anche a porta aperte, quindi, web server, ehm, e servizi vari, si va a creare un task, eh, e si va a scansionare, anche lì, la rete, perché anche qua, lo posso dare, da, 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 dove partire, dove finire, eh, oppure, eh, scatturare anche un indirizzo IP, in base a quello che trova, fa un report delle vulnerabilità, contando, che ne so, adesso, avevo computer con Windows, magari avevo, eh, se mettiamo, avevo Windows 7, mi avrebbe detto, guarda, c'è una versione obsoleta, di quel sistema, di quella, di quel server FTP, di quella cartella, di quella condivisione, Samba, NetBio, se non è aggiornato, o qualche cv magari, da, da aggiornare, ecco, sono tutte cose, che fanno comodo, a chi va a fare, penetration test, perché comunque, va a dire, o poi, all'amministratore, e tu, guarda, c'hai delle cose obsolete, e che dovresti aggiornare, ma ti servono, ci non sta per forza, perché, comunque tutto ciò, che non è aggiornato, o che non gode più, degli aggiornamenti, di sicurezza, sostanzialmente, va, eh, a creare, dei punti vulnerabili, di scansione, quindi questo qua, è un programma open source, graduto, potete già cercarlo, su, eh, su vostri motore di ricerca, preferiti, come installare, open bus, e vi darà, cioè, anche, da riga di comando, anche per, per, comunque, per esempio, c'è sempre un discorso, su, da 50 get install, eh, c'è proprio open bus, ecco, lo vado a rilanciare, eh, no, open, open bus, ecco, eh, open bus, già la versione precedente, perché è già installato, voi potete fare la stessa cosa, ricordatevi sempre, che tutta volta che stiamo interagire, con la shell, per installare, o fare qualcosa di, abbastanza invasivo, dovete essere amministratore, quindi, o lanciate il su, eh, e vi loggate con amministratore, oppure, eh, lanciate il sudo, spazio, e, eh, vi chiederà sempre, la password amministratore, e vi potete loggare, quindi, questo qua è un programma, eh, per esempio, mh, cioè, già, ecco, Nmap, già con questo qua, avete un bot scanner di tutto rispetto, in cui, eh, c'è proprio il sito con tutte le funzionalità, anche manuali in giro, e avete anche un vulnerability assessment, in cui va proprio a scansionare, le vulnerabilità. Ora, dato di, eh, siccome stiamo parlando di vulnerabilità, di scansioni, eh, mh, l'altra volta avevo parlato anche di Tor, che per il discorso dell'anonimato, eh, questo è un Firefox, eh, che già trovate con, eh, con Kali Linux, in cui ho già, ho installato Tor, quindi, sostanzialmente anche qua, stessa cosa per chi, eh, non è pratico, vado a lanciare il sudo, apt-get install tor, e andrà a installarvi Tor, ricordando di, porta in ascolto che, eh, andrete a configurare su, eh, Quindi io sono a Firefox, vado su, i settaggi, eh, in basso, eh, ho il, ho la possibilità di, di, di cambiare i settaggi della rete, in cui sono andato a mettere, in questo, in questo caso, manual proxy configuration, in cui vado a mettere, su, su, su SOC, host, 197.001, perché, eh, Tor non è un proxy, ma è un SOC, e, 127.001, sostanzialmente, mi sto andando a dire, devi, eh, andare su, te stesso, cioè, a chiamare, il local host, cioè, la, la, la mia macchina, locale, eh, sulla porta 9050, questa porta, sostanzialmente, mi permette di, eh, far entrare il, il browser, dentro il circuito Tor, quindi, ho già configurato, per vedere, se ha funzionato, basta andare su uno di questi siti, in cui, si va a chiedere, qual è il mio indirizzo IP, io, sono delle marche, in provincia di Macerata, eh, quindi, ora vediamo, indirizzo IP, con cui esce fuori, e me dice che sono in Francia, e quindi, va bene, andava male, se, eh, se, eh, mirava più o meno, la, la mia zona, quindi, ogni volta che vi connettete, vi dovrebbe dare un indirizzo IP diverso, questo indirizzo IP, addirittura, questa volta del lusso proprio, ci fanno uscire con, un IPv6, eh, mi permette di avere, l'anonimato, cioè, eh, il, il sito in cui, vado a vedere, non sa, il mio indirizzo IP originale, ma sa, indirizzo, del nodo uscente della rete torre. Eh, dato che prima si parlava di scansioni, io, eh, mi sono messo sui preferiti, Shodan, Search Engine, che avevo già accennato sui webinar precedenti, in cui, è un motore di ricerca, come se fosse Google, però, inerente alle vulnerabilità e ai sistemi. Il sito, eh, se, per esempio, io cerco desktop, eh, l'avevo già cercato, eh, desktop remoto, mi darà tutti i computer che sono online, con, eh, in ascolto, con il servizio attivo, su internet, quindi, da veri masochisti, eh, del desktop, eh, remoto. oppure, posso anche andare a cercare, su un, con WNC, ecco, vediamo alcuni computer, te lo ricordi Maria, Maria Luce, che l'altra volta hai cercato anche te? sì, sì. Quindi, ecco, qua, mi ha l'indirizzo IP, contando di, più o meno il sistema operativo, e posso andare a trovare tutte queste cose qua, che sono in ascolto. Quindi, una volta che io ho, la scazione NMAP, che sostanzialmente è quello che fa, eh, dietro le guinde Shodan, e anche la possibilità, del, della versione, che qua, eh, lo mettono, eh, il fatto di essere, più o meno aggiornata, poi ci sono proprio dei programmi che vanno, e che vedremo a interrogare, con dei port, cioè, dei, una sorta di brute force, attacchi a dizionario, per sgamare queste password che chiedono all'accesso. Quindi, eh, tutto inizia dall'indirizzo IP. Cioè, io prima devo sapere l'indirizzo di casa. Una volta che sto a casa, si va a vedere quali sono le porte, delle finestre. A punto di vista informatico, lo strumento, ci sono tanti altri strumenti open source, anche, e gratuiti. Eh, io, mi piace sponsorizzare NMAP, perché è un buon punto di riferimento. io l'ho aggiornata da riga di comando, ma già sta, anche la possibilità di avere l'interfaccia grafica, che si chiama ZenMap, che però, eh, eh, Kali Linux non, non ce l'ha preinstallata. E quindi, ecco, eh, su Shodan, in cui ho detto, mi dai tutti quelli che tu hai rilevato, che hanno desktop, eh, remoto, mi fa vedere, ecco, tutti indirizzi IP, contando più o meno della nazionalità, in cui se, eh, posso andare a trovare, eh, cioè, si vada a connettermi con il programma desktop remoto, a 15 IP, mi risponde direttamente. Stessa interrogazione si può fare con VNC, che è un altro sistema per sapere, per com... di desktop remoto, eh, in cui si va a dire, mi dai tutti quelli con, eh, VNC in ascolto su internet, VNC ha una porta diverso dal, dal desktop remoto, è leggermente un po' più sicuro, però, ecco, eh, e quindi mi danno direttamente tutti i semi e i soliti indirizzi IP, eh, dove connettermi. E qua, potete trovare, eh, cioè, non nascondo che ci potrebbe essere dei, eh, software in cui, eh, ci sono, eh, lo username e password che sono di default, quindi, eh, si può anche provare admin, admin, o, eh, un sacco di, eh, di utenze varie, eh, senza grandi password e stratosferiche, che, eh, può essere che, fa entrare. Tutto questo qui non è per, eh, incendivare, eh, a essere, eh, black hat. Eh, mi interessa che passa anche il messaggio da consapevolezza delle vulnerabilità. Cioè, se io qua metto il nome di qualche banca, qui usciranno dei computer risposte su internet. Io non, non, non lo metto perché, perché non voglio farlo, però, eh, voi sappiate che questo è un motore di ricerca come Google, eh, l'altra volta vi faccio vedere su webinar scorsi anche le Google Doc, no? Le ricerche più affinati che si possono fare con Google, in cui è possibile entrare su, eh, le telecamere, webcam, e anche qua potete ricercarle queste cose qua. Quindi, tutto, tutto questa qua era per dire che, eh, la sicurezza informatica, eh, è sempre un processo in cui deve essere ricercato. Questi strumenti ci permettono, sì, di fare il penetration test, ma anche di testare noi stessi, se quando sia, se quando siamo a sicuro. Perché, a volte, non ci rendiamo conto che si può fare tanti casini, eh, senza, 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 cioè, se non si può fare dei, delle misconfigurazioni, mi sconfigurescio, che ne chiamate. Allora, ora andiamo a vedere un altro programma, che è invece per il discorso di DNS. Allora, andiamo a lanciare, se volete farlo anche voi, subfinder, è uno, eh, in cui vado, oddio, subfinder, trattino, eh, sì, eh, oddio, sì, 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 l'end, eccolo qua, su DuckDuckGo, e vediamo quello che esce fuori. Allora, prima vi ho parlato della nuova versione di Kali Linux, era la manda di Maria Luce. Tra i tol e nuovi ci stanno anche questi qua, DNSX. Allora, DNSX, sostanzialmente, è come DNS Lookup, o altri servizi che vanno a enumerare i sottodobini del dominio, in cui vanno a dare anche l'indirizzo IP. Quindi DuckDuckGo, per chi lo conosce, è un motore di ricerca simile a Google, che però si fa un po' più gli affari suoi rispetto a Google, e quindi, ecco, si lancia questa, stessa cosa, c'è sempre la pagina MAN, eventualmente, per sapere cosa andiamo a mettere, in questo caso, trattino silent, eh, trattino a resp, silentd, d è il dominio, eccomi va, mi ha fatto la lista dei sottodomini di DuckDuckGo, e quindi ora, andiamo a lanciare su, cambiamo il dominio, e mettiamo, performagroup.it, questo, e quindi qua, trovo tutti gli indirizzi IP con i sottodomini, quindi che significa che, ci sono dei computer, dei server in cui ci sta, questi nomi che vengono dati a questo sottodominio, quando vuoi comprare un dominio, quello che comprate è, è DuckDuckGo.com, esempio, e quindi ci sono, potete creare i sottodomini, che possono essere il server DNS, il, il server della pagina web, e quindi potete creare dei sottodomini, in questo caso, performagroup.it, mi dà che, non ha sottodomini, cioè, nel senso che, quello che risponde, è l'indirizzo IP con i siti di, performagroup. E, e quindi questo qua, è una cosa, vi fa comodo, insomma, per sapere, quanti, cosa sta in ascolto, da quell'azienda. Prima accennavo a VNC, e desktop remoto, per quanto riguarda, una volta che uno ha individuato, che, ne so, tipo su router mio, c'è la porta 80, in cui chiederanno, un username e password, c'è un programma fantastico, che avevo già anche accennato, che si chiama IDRA. IDRA, non è altro che, è un programma, in cui, mi permette di fare, l'attacco, direttamente, a un username e password, l'autenticazione di, di un sito, di qualcosa che è, online. Quindi, ho lanciato IDRA, senza nessun comando, senza niente, mi dà direttamente, la pagina, in cui mi dice, guarda, la versione è questa qua, e se lo vuoi lanciare, devi mettere, questi sindaci. Ora, io non lo sto a lanciare, perché ci vuole tempo, comunque, estanzialmente, e la sintassi, è un po', questa qua, che riporta anche sull'esempio, IDRA, trattino L, user, in questo caso qua, mettiamo che io voglio bucare il mio, router, so benissimo che tutti i router Asus, quando vengono risetati, hanno una password admin, metterò, admin come user, e trattino P, significa che, stando in pasto, il file, un file txt con le password list, e poi l'indirizzo IP. Password list, non è altro che un file, con tutte le password, papavili, che si può andare, va, si chiama l'attacco a dizionario, cioè, io di solito, che succede, che si crea un file, con il dizionario, della lingua italiana, per esempio, faccio un esempio, quindi, IDA andrà a provare tutte le parole italiane, perché magari uno ha utilizzato una parola italiana, poi uno lo può, se un txt comunque se lo crea, può fare quello che vuole, e si può andare a creare, sostanzialmente, delle password list, in cui si mette, di solito, il gioco è questo qua, quello di mettere anche, tutte le password più utilizzate, su internet, 1, 3, 4, 5, 6, QWERTY, ADMIN, ADMIN, e via discorrendo, tra cui anche le password default dei router, e non è raro provare i router con la password resettata, quindi password default, e quindi basta una ricerca su Google, in cui mi hai le password default di questa azienda, Netgear, Asus, Linksys, e quindi si va a provare queste combinazioni, quindi sostanzialmente, io, a parte qualche comando base della shell, perché era d'obbligo per chi aveva seguito il webinar con Linux Essential, sostanzialmente la procedura è questa qua, quella di identificare l'indirizzo IP tramite NMAP, NMAP ci dà anche la vulnerabilità, o comunque le porte aperte, c'è un scanner che è open fast, che va a investigare ulteriormente, comunque sia, se NMAP, o un semplice Shodan, mi dà quell'indirizzo IP, cioè quella vulnerabilità, per esempio qua, si può cercare anche come webcam, e vedrete che spesso vi hanno rettamente l'indirizzo IP, in cui se è messo su browser, vi fa entrare rettamente sul pannello amministrazione della webcam, anche lì, spesso password di default, a vuote, se ha cambiato la password, è già un miracolo, con idra, dando in basso il file delle password, si può andare a cercare di entrare su pannello amministrazione della webcam, e quindi anche girare la webcam, come se fosse insomma uno che ha il pieno potere. Un altro programma che avevo lanciato, che avevo parlato su webinar, è di Harvested, per quanto riguarda, più caro, il talk, quando riguarda il discorso dell'Ossent. il Kali Linux, come vedete, ha già dei sottogruppi di programmi, in base a quello che si vuole andare a fare, questo per analisi Ossent, Harvested, è il programma, quello che ho citato l'altra volta, quindi, sostanzialmente, si inizia con information gathering, viene chiamato, quindi recupero delle informazioni, una volta che sto le informazioni, attraverso le Google Doc, l'Ossent, attraverso i DNS, ecco i DNS, per esempio i DNS, i DNS, i Serecon, fanno le stesse cose, insomma, del cercare i sottodomini, e informazioni vari, una volta che ho trovato le informazioni, sta l'analisi delle vulnerabilità, e qua andiamo a trovare, o ben vasta, che è quello che ho fatto vedere prima, e poi c'è Nitto, Nmap, che è il port scanner, che ho fatto vedere prima, e poi questo sono tutto, riguarda le applicazioni web, quindi, c'è Burpsuite, che è fantastico, è molto, molto potente, e addirittura c'è anche scanner, tipo WP Scan, che è proprio mirato, per quanto riguarda i CMS WordPress, c'è anche JomScan, per Joomla, e quindi, tutte queste cose qua, se voi siete amministratori, o vi occupate di qualcosa, all'interno della vostra azienda, appunto, di vista informatico, qui sono dei strumenti gratuiti, open source, che vi possono far comodo, per testare, anche ciò che avete configurato, e magari con gli aggiornamenti, se è sconfiorato qualcosa, oppure, fare una sorta di hardening, per quando riguarda, la vostra reddeline, SQL Map, per i database, quindi tutti i discorsi, di attacco SQL Injection, attacchi alle password, sono, ecco, questo, per esempio, è un programma Word List, C e Pwl, permettono, per esempio, di creare, la propria vostra Word List, e basta andare anche su, su JIT, che ci sono anche, molti repository, in cui già ci sono, queste password list, in cui, potete andare a creare, anche la password list, mega galattica, e di giga e giga, in cui, quando dovete scansionare qualcosa, andate direttamente, a utilizzare la vostra, ci sono, di attacchi alla rete wireless, per quanto, come Aircrack, che è famosissimo, quindi, sostanzialmente, sono tutti, Wifi, o Fern, sono delle interfacce grafiche, che vanno a lanciare, sostanzialmente, una volta che, viene messa la scheda di rete, in un'età promiscua, di solito, vengono utilizzate, delle schede wifi esterne, con le antenne, un po' più, diciamo, pompose, per quanto riguarda, la ricezione, di segnali da lontano, viene messa, in un'età promiscua, di solito, vengono utilizzate le alfa, come, per fare il penetration test, da lontano, e quindi, ecco, si va, anche lì, c'è stato il solito discorso, in cui, c'è stato sia le password, che uno può provare, per la rete wifi, sia il fatto di, catturare i pacchetti, eccetera, eccetera, non voglio dire altre cose qua, l'unica cosa che voglio far vedere, è questo, lanciare dei hard vested, in cui, il comando nuovo, ecco questo qua, sempre su, di dominio, su performa group, L200, che è, il tipo, L200, vediamo un po', se lo prende, ecco qua, the hard vested, e, ah, non ho messo su, qui devo cercare, meno S, bind, mi sembra, bind, no, era, ah, ok, argomento, allora, qui c'era da, allora, anche qua, c'è sempre la pagina man, quindi, sostanzialmente, vado a cangellare il tutto, vediamo se c'è stata la macchina, perché questi sono dei talk, dei talk nuovi, non c'è il manuale per vest, quindi uno, se viene da sul sito, va a vedere, quale sono le cose da, da lanciare, poi, per quanto riguarda l'Hosinded, c'è un altro programma, si chiama Sherlock, che avevo parlato altra volta, Sherlock, e, Sherlock, sostanzialmente, è un programma che, mi permette di andare a trovare, sui siti, in base a un, all'indirizzo email che io do, allora, quindi faccio un esempio, adesso vado a mettere il mio indirizzo email, Sherlock, non so, ciao a tutti, vediamo un po', ciocciolalivero.it, andrà a vedere, se questa email, viene utilizzata su, dei siti, anche qua, non è che, quello che dice, è oro colato, sostanzialmente, sono un punto di riferimento, per quanto riguarda l'Hosind, ora, io, più caro, quello che mi resta, quello di mettere la pulga in orecchio, l'interesse per questi doll, poi siete voi, che andate sulla pagina man, o sul sito, del, dello sviluppatore, a cercare, informazioni un po' più dettagliate, stiamo quasi alle otto, sì, infatti, abbiamo un po' sporato l'orario, ma solo un po', un pochetto, un pochino, possiamo andare, guarda, ci sono un paio di domande, nella sezione domande, cosa almeno, Roberto e Matteo, quella in alto. Allora, Roberto, puoi consigliare un laboratorio di prova, per prendersi gratuito, Roberto, o lo metti su in casa, con le macchine virtuali, che sono veramente, se hai RAM, troppe macchine virtuali puoi mettere su, altrimenti, sono delle distro, che già escono con le vulnerabilità, in cui sei tu che ti vai a esercitare, e quindi, mi sembra che sul profilo di mio LinkedIn, avevo postato qualcosa di simile, per quanto riguarda queste cose qua, comunque, sì, lo metti tranquillamente a casa, con VirtualBox, ecco, se non vuoi spendere, prendi la licenza VMware, o prendi dei computer vecchi, c'è sta lì Linux, con i servizi più disparati, o VMware, o VirtualBox, che è un programma gratuito, open source, molti piattaforma, in cui sei tu che stai lì, le varie distro, addirittura, su una, installi Windows 7, con un server FTP, l'altro, condividi le cartelle, un altro, puoi metti, per esempio, il webinar dell'altra volta, era su on cloud, metti anche on cloud, e poi metti a scansionare Nmap, per vedere cosa esce fuori, hai qualche consiglio, per il parsing, dell'output di Nmap, in particolare, col formato XML, allora, questa domanda qua, mi fa bene in mente, che tra le cose che, insomma, le potenzialità di Nmap, è che possiamo anche diricere, l'output verso un file, quindi creare un file, che poi dopo, in base alle informazioni, dell'output, che ha dato, per esempio, tipo, se io qua davo, mi scansiono tutta la mia rete, e poi esce fuori, un file, ci può andare, tutte queste informazioni, in cui posso andare a stravolare, l'indirizzo IP, e via scorrendo, i file, ovviamente, possono essere di diverso formato, e poi, ci sembra trovare qualcosa, che va a lavorare dentro, qualche, allora, per qualche, il parsing, dell'output di Nmap, su dei piedi, no, però so, che ci stavano, adesso, su dei piedi, non mi viene in mente, un bramma, da suggerirti, ricordo, che c'era qualcosa, che andava, a prendere, informato, addirittura, puoi fare anche, di script in Python, e stravolare, dell'informazione, che ti serve a te, quindi, siccome che Python, va molto, tra l'oputo là, Matteo, potresti fare, potresti vedere qualcosa, delle librerie in Python, che addirittura, c'è stata assoluta, anche di fare, dei grafici, in cui, magari, ti può essere utile, queste cose qua, allora, Sergio, vai giù un attimo, da Sergio, sì, che era una delle tue domande, sto usando, un punto su VirtualBox, sebbene, io ho dato, 4 giga di RAM, ogni tanto si pianta, cosa si può fare, come funzionerebbe meglio, anche io, allora, io ho 4 di RAM, io, per esempio, sono un dual core, con 8 giga di RAM, adesso, sponsorizzare, Webware, VirtualBox, se stiamo parlando, Webware, di un prodotto, che devi pagare la licenza, a meno che non prendi il player, e VirtualBox, è un programma open source, quindi, non lo so adesso, qual è il tuo problema, perché si pianta, e o gli dai più RAM, perché se tu hai messo un nome, oppure KDE, magari mangia un po' di più di RAM, e quando mandano in esecuzione, i programmi, forse dovresti dare più RAM, penso, la butto là, non so il caso specifico, poi, amici, vorrei fare domande, sono un developer aspirante tale, mi sto avvicinando al mondo Linux, in che senso, Kali Linux, o altre istituzioni, mi facilitano nell'ambito, dello sviluppatore, facilità, facilità, più, facilità, più lo sviluppo embedded, o sviluppo web oriented, no, Sergio, Kali Linux, non è per sviluppare, cioè, è sempre un Linux, quindi, sostanzialmente, io posso andare a riecomando, installare qualche editor, che riesco, tipo, apt-get, metto, Giani, Giani, un editor, per programmatori, per, tipo, anche per Python, per fare così, da riecomando, però, più caldo, chi scarica Kali, è per fare il penetration test, è per dare la sicurezza, non è per, è una distro per il programmatore, cioè, lo puoi utilizzare, anche per programmare, però, forse, io prenderei un Ubuntu LTS, se vuoi fare una workstation per lavorare, Isali, Eric, che è un programma per lavorare con Python, o Giani, che è un editor per programmatori, e via discorrendo, e, perché magari trovi ripositori diversi, versioni un po' più, idonee per lavorare, un po' più stable, rispetto a, vediamo se parte, Giani, ecco, questo è un editor, in cui, di solito, è fatto apposta, proprio per i progetti, per programmare, però, ecco, è un programma, è un programma, lo puoi installare, in qualsiasi altra distribuzione, non è che deve, c'è per forza Kali, questo qua, in che senso, Kali, la distribuzione, mi faccio andare, ah, ok, facci da più, lo sviluppo embedded, o sviluppo web oriented, ripeto, non c'è da niente, forse, per quanto riguarda l'embedded, sarebbe, dovresti avere anche una schedina, ARM, o qualcosa, che poi dopo puoi andare a provarlo, se veramente funziona, ok, andiamo su, vai su, ti comando, allora, Gigi, Carla Spina, non ho una domanda specifica, perché sono tantissime, chiedo scusa per il dato, la connessione workshop, per me, alle prime armi, utilissimo, spero che nel video, registro per vederlo, e rivederlo, fai, io sei un grande, condividi professionalità gratuita, e non è da tutti, G, C, per catturare i pacchetti, trasmissione in rete, di uno smartphone, Apple, allora, per, allora, mi sembra che su webinar, avevo anche accenato, del, White Shark, comunque qua lo trovi, su, perché White Shark, è stato anche da ricadarmi, del comando, e, ecco, spoofing e sniffing, spoofing, sniffer della rete, eccolo qua, di, questi, è EtherCAP, e poi, di solito, si utilizza il McChange, per cambiare il, White Shark, è uno dei bondi di riferimento, cioè, è un programma, proprio, ufficiale, questo, si mette, la, la scheda rete, in moneta promiscua, cattura tutti i pacchetti, essenzialmente, hai qua, tutto, il sorgente, e destinatario, tutto il toque, sta transitando in rete, e, vai a identificare, quelli che ti interessano, se sono in chiaro, i pacchetti, vedrai che qua, sta scritto, non so, vado su un sito, in cui mi chiedi, la mia password, e il sito non è HTTPS, qua giù, vedrai proprio, quello che sto scrivendo, per la password, o la richiesta, questo, tutto, lo eserciti male, e questo, tutto, e quindi, ti rimando a questo qua, White Shark, cattura da internet zero, perché, è la scheda di rete, ma, poi, sarà, la scheda in base, a quella che stai in ascolto, questo, tutto quello che passa, in demo reale, piazzandoti, come filtro, sull'indirizzo IP, del cellulare, che ti interessa a te, quello Apple, e potrai vedere, se fa qualcosa di strano, verso, verso fuori, o se sta qualche software spia, perché comunque, se sta qualche software installato, prima o poi, devi andare a dialogare fuori, Roberto, puoi considerare un lavoratore, ah, questo l'ho fatto, direi che alla fine, abbiamo un po', risposto un po' a tutti, ok, io ti lascio andare Fabio, perché abbiamo un po' sforato, l'orario, ringrazio tutti, per essere stati con noi, fino a quest'ora, ringrazio Fabio, giustamente, e il webinar è concluso, ci vediamo giovedì prossimo, per il prossimo webinar, comunque, comunque, allora, io, per chi volesse chiedermi qualche domanda, oppure qualche cosa, io sono sempre raggiungibile, disponibilissimo, su LinkedIn, rispondo a tutti, e so, accetto il collegamento da chiunque, basta che non è spam, o via discorrendo, quindi, quello che vorrei ricordare, che, ecco, questi sono tutti appuntamenti, in cui, si cerca di, creare appetito, nella persona, o, per queste tematiche, e non vuole essere una cosa, esaustiva, a 360 gradi, ci sono dei corsi e posti, che durano ore e ore e ore, solo per questo, l'intento, questo qua, è quello di, in un'oretta, fare il più possibile, per dare degli input, e poi uno a casa, fa i copiti a casa, insomma, quindi, vi ho fatto vedere, inzacco di pagina man, dei punti di riferimento, e poi siete voi, che dovete andare a provare, a testare, nella vostra reddellanda, anche con i vostri dispositivi, in modo che non fate, danno a nessuno, e poi, insomma, piano piano, tanto si prende mano così, poi comunque ci sono, sia videocorsi, sia anche manuali, per quanto riguarda il pen test, i comandi, i programmi sono quelli, una volta che uno, ha preso mano, col proprio, packet manager, della propria distribuzione, per installare i pacchetti, e rimuoverli, insomma, è questo qua, si parte da lì, e tanto, è tutto un discorso di provare, e testare, è solo così, se imbarà. Va bene, grazie mille Fabio, arrivederci a tutti, buona serata, alla prossima. Ciao, ciao a tutti, ciao.